Siamo qui alla Waz, i tecnici stanno guardando dove inserire gli speaker, forse nella porta, forse di dietro, chissà dove me li metteranno questi due speaker del clima. Nel frattempo ecco qua la base Unique Vehicles Group, qui le Waz ci sono, un'altra di là, la mia è già sotto operazione, abbiamo anche una Lada, qui a Poznan c'è il paradiso delle Waz, questo, dei mezzi da guerra, dei lavori in corto, questa è la Tarmor, questa è un'altra guazzina, qui ne abbiamo un'altra, tutta con telone, questa targata straniera, dentro ce ne sono altre due, abbiamo una Lada qui e una Lada di là, andiamo a vederla, non sembra ma guarda che la Lada è una bella macchinina, di grande forza, guarda, 4x4, qui c'è ancora questo, l'unico, però simpatica questa qua, con i finestrini così, a me gusta, diversa, diversa perché è chiusa dentro questa, è chiusa totale dentro, non si vede niente, e questo? questo fa parte di lei, guardala, è grande la zona qua, vedo che di qua c'è un altro punto, per girare, qui siamo nel retro bottega, della Wax, grandi lavori, un po' di rumenta, questa è una Volvo che stanno sistemando, come si vede, grandi lavori, insomma praticamente ora mi tocca aspettare fino a che non mi hanno montato tutto quanto, mi ci vorrà un tot di ore ad aspettare qua, non ce la faccio già più, però normalmente dove l'avevo portata la prima volta, la Wax a mettere l'impianto a gas, dovevo aspettare tre giorni, qua me la fanno in quattro ore, no? ora vediamo, aspettiamo, nel frattempo mi hanno portato un menù per ordinare da mangiare, abbiamo anche la Patriot, la mitica Patriot, bella alta, anche la Gipetta, che simpatico, il deflettore, anche la Gipona qua ha due distributori, due distributori, due contenitori di benzina, e beh vuoi mica lasciare uno solo, guarda, con queste ruote ti aggrappi proprio, eh? abbiamo anche questa, just in case, forgole, eccoci qua, siamo ancora qua in attesa, sono, che ore sono? l'una? è mezza? è l'una e mezza, abbiamo portato la macchina alle nove, e, com'è dal dottore? bisogna aspettare, siamo qua nella sala d'attesa, abbiamo mangiato quattro pizze, sto malissimo, e niente, ci tocca aspettare, vedere i risvolti, e, nell'installazione del gas, la radio, e sei buchi per il tarp, aspettiamo, considerando che devono chiudere più o meno alle quattro e mezza, diciamo che dovremmo essere oramai verso la fine, e mi mancano ancora, 450 chilometri da fare, per tornare indietro, non ce la posso fare, e oggi è il giorno dopo, e siamo qui, apparentemente a ritirare la Watts, noto con dispiacere che i buchi non mi sono stati fatti, e c'è ancora il lavoro che si sta eseguendo. Beh, allora le radio, la radio è stata messa, sono state messe due casse, veramente due davanti, ma, ok, ne volevo tre, ne avevo detto tre, però è ovvio che il set arriva con due casse, quindi ho una, ne mette quattro, che comunque sarebbe stato anche bene, ok, va bene, due casse davanti, però dietro, nell'abitacolo dietro, ah, a proposito, adesso devo vedere le luci, surprise, directly from Russia, però questo qua, come si può vedere, ha i finestrini che si aprono, cioè un mini bus, senza sedili davanti, ha la, la copertura qua in plastica, ha un rivestimento di gomma, tutto intorno, e anche questo bordino qua, eh, questo rivestimento qui in gomma, anch'esso, per il resto è tutto uguale, meno che nell'entrata, vedo che qua c'è il bluetooth, ha il bluetooth, la cabina è chiusa, cioè divisa, e per il resto, questo è tutto uguale, per il resto, it's all the same, è giusto che ha il bluetooth, eh, il bluetooth, eccetera, però, come funziona il bluetooth, se non c'è the radio? non so, un mistero questo qua, non so, già, sono in bratta, però ecco, è, questo, fatto, ah, vedo che anche questo qui, ha lo stesso coso che esce, questo qua basta schiacciarlo in giù, insomma, un'altra watts, fatta la watts, vediamo da questo lato, vorrei vedere se il sedile, sorry, se il sedile, vaffanculo, la porta è chiusa, sì, le maniglie sono diverse, sono rivestite di questa plastica, ah, e vedo che, il, il bordo di gomma, arriva fino a metà, poi il resto, che si tiri l'acqua, mentre invece qua davanti, c'è tutto un bordino di gomma, che è anche un bordino di gomma, anche qua intorno, un'altra cosa che cambia, è, il, 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 il paraurti, è molto, ma molto più cipettone, questo qua, plasticazza, e, con dei rinforzi, questo plasticazza, proprio così, plasticazza, plasticazzazza, molto più, molto più cip, molto più cip, quello, molto più cip, qua, la gomma, è rinforzato con la gomma, vediamo di dietro, com'è, ah, di dietro è sempre di metallo, questi, questi, si, questi, questo viene giù bene, questo qua, questo, 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 non si muove, questo ho capito che è bloccato, è solo la finta, c'è una ruota sotto, c'è la ruota sotto, di scorta, as usual, si, è diverso, e sembra anche molto più leggero, probabilmente, in effetti, perché non hai, anche la maniglia, questa qua, no, e c'è un tavolino, lì così, e dentro non ci sono i sedili, tornando qui, il meccanismo dell'impianto è diverso da quello che mi avevano fatto precedentemente, ecco, anche un'altra cosa, qua gli specchietti sono montati diversamente e sono più piccoli, vedo comunque che anche queste qua sono montate Watt style, anche le ruote sono diverse, stavo guardando se c'era qualche punto di ruggine, e quindi abbiamo un trittico praticamente, un modello di Watt 452, una jippona e il Patriot, vedo che anche qua, già qualche punto di ruggine inizia a venire fuori, la macchina è nuova, praticamente, poco fa era targata russa, e adesso è già targata PLEU, praticamente questa ha le calanature qua, per lasciare cadere l'acqua, però davanti non le ha, perché è chiusa da questa gommina, e non so questa gommina quanto sia interessante da tenere, perché almeno di qua può cadere l'acqua, mentre invece viene bloccata dalla gommina, ma il mondo Watt all'opera, ce ne sono tre, Gippone e la mia, quattro? laggiù che cos'è, un pick up? al completo ci manca la Patriot, che è di fuori, il 3741 è entrato nel reparto chirurgico, nell'hangar, eccolo in entrata, siamo la Tarmot, dove le operazioni Watt, continuano day by day, Siamo sempre alla Tarmot, ed è arrivato un mitico Juk, che è una macchina polacca, non se ne vedono più in giro di queste auto, sono proprio rare oramai vederle, e questo è messo anche molto bene, eccolo qua, e questo qui è spettacolo, il mitico Juk, guarda, bei sedili, molto bello, molto messo bene, con il passaggio dalla cabina di pilotaggio, con la dendina, qui la radio, e anche con la cucina, ma è molto simpatico, un bel colore, molto simpatico, ce ne trovano, questo è l'ultimo che vedo oramai, del 1968, molto bello, questo film, guarda che bello, si accende? ogni drinko è da del 1970, quindi ci sembra autentico, non c'è nulla di oggi, sì, sì, assolutamente, e il gas, questo è davvero speciale, e guarda la table, che cazzo, ho visto, ho visto, qui si tratta di acqua, ma non c'è nulla di oggi, sì, sì, non c'è nulla di oggi, sì, 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 e la table, questo è un must, qui si tratta di acqua, qui si tratta di acqua, questo è un must, come un must? sì, assolutamente, questo è un nuovo progetto, al quale stanno lavorando, ecco, qui eravamo nel retro bottega, e adesso rientriamo, nel garage, qui c'è, anche la tarpan, qui, se hai perso il cacciavite, chissà dov'è, sai, non so, questo è, questo è, molto interessante per te, perché è, un buhanka frame, ma non su, le spri, quindi non su questo, ma su completamente, spri, le spri, le spri normali, mezzi che devono essere montati, arriveranno i pezzi dalla Russia, qui abbiamo solo gli scheletri, a una cosa interessante, è quello, infatti, delle, che, questo mezzo qua, che c'è di fronte a me, non metteranno più le palestre, ma, metteranno, la molla, cioè, le sospensioni, come quelle che ci sono, niente, progetti, che ai quali lavorano, una differenza nel lavoro che faranno, ecco, qui siamo ancora qua, con il mio mezzo inattivo, e, aspettiamo. La differenza, praticamente, di quello con le palestre, e quello con la molla, è, questo qua, con quello che abbiamo noi, è più leggero, questo qua, in effetti, è più, più leggero, quello senza palestra, è più, stabile, più stabile, più rigido, è più stabile, un po' più rigido, è quello che porta in cambio, infatti, è un lavoro che stanno facendo, anche di là, nell'altro mezzo, che è appena entrato, in sala operatoria, che pedalino, che pedalino, in effetti, qua, il sistema dei pedali, è sempre abbastanza alto, però, non è chiaro come, non è come, il 452, qui abbiamo, questo, qui c'è anche una, una bella minchiazza, non c'è niente, è solo la borsa, che così, ah no, si apre, allora, se vedi, ecco, guarda com'è, si copre, questo qua, apre, chiude la porta, una cosa, infatti, che non c'è, nella 452, è la chiusura, della porta interna, non la puoi chiudere, praticamente, con la Tarmot, a Poznan, dove la Waz, è di casa, la Tarmot, si lavora alla grande, la Waz sta uscendo, c'è sempre il rumore, la sommergibile, mi hanno detto, che è normale, sento profumo di gas, e guarda che roba, guarda, guarda, una famiglia distrutta, guarda che roba, guarda questo, parente, inclusi, guarda,